Lo scorso 30 settembre, dopo anni di trattative, il Comune di Cuneo e l'Agenzia del Demanio dello Stato hanno firmato l'atto di divisione della gaserma Cantore di fronte a Piazza Foroboario, dismessa per la quasi totalità dalla Guardia di Finanza. All'ente pubblico governato dall'amministrazione Valmaggia è andato il complesso comprendente la palazzina ex-infermeria che si affaccia su Via Pascal, interi fabbricati all'interno del cortile un tempo usati come aule, tutta la porzione della struttura soccorso Kennedy per quanto riguarda la parte occupata dalla palestra e dai locali sottostanti, il parcheggio seminterrato, due piani, 250 posti auto disponibili e le zone di pertinenza. Si chiude in questo modo, aveva dichiarato il sindaco Valmaggia, una vicenda iniziata nel 1883 con un insediamento in città della caserma e che oggi vede ritornare al Comune un immobile strategico per lo sviluppo di un'importante area del capoluogo. Infatti la Giunta ha già anche un progetto di massima per la riqualificazione dell'area. Utilizzando una parte dei fondi europei recentemente distribuiti dalla Regione e per il cui ottenimento il Comune aveva partecipato al bando emesso in primavera dall'amministrazione piemontese, a Cuneo sono arrivati 12.800.000 euro, c'è in cantiere per il momento di sistemare l'edificio ex-infermeria. Al piano terreno sei nuovi locali per la promozione dei prodotti tipici del territorio, al primo piano spazi da destinare alle associazioni locali e la riorganizzazione del parcheggio. Dunque, tutto bene? Parebbe di no. Il Comune ha ottenuto gratitudinamente il complesso in quanto aveva contribuito a costruirlo, mettendo a disposizione i terreni e anche dei soldi. Nel 1883 la cifra di 450.000 lire e poi nel 1888 l'ulteriore somma di 15.000 lire. Ma la proprietà è sempre rimasta indivisa, fino all'accordo sancito poche settimane fa. Sembrerebbe però che nell'atto l'Agenzia del Demanio abbia collato al Comune tutte le spese di registrazione dello stesso. Per le divisioni si dovrebbe pagare un'imposta di registro secca di 1.500 euro, l'importo preventivato dall'amministrazione Valmaggia. Invece, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dell'interpretazione di una circolare, pretenderebbe il pagamento della tassa di proprietà, cioè l'1% del valore dell'immobile. Essendo il complesso stato valutato 27 milioni di euro, si tratta di ben 270.000 euro, da versare entro 60 giorni, penna all'aggravio del 30% per mora. E sembrerebbe che non ci siano spazi per una diversa soluzione e che l'avviso di liquidazione dell'imposta debba arrivare al Comune in questi giorni. Quindi una bella batosta. Cosa si può fare? Un'inevitabile variazione di bilancio per far fronte alla spesa imprevista, magari iniziando ad usare l'eredità lasciata all'ente pubblico del dentista Ferrero. Cosa si può fare? Cosa si può fare?